Sradicano dalla parete il bancomat di una filiale dell'Unicredit, ma vengono intercettati dai carabinieri e costretti dopo un breve inseguimento ad abbandonare la refurtiva sulla strada. Sono riusciti comunque a far perdere le loro tracce. Gli autori dello spettacolare colpo avvenuto a Barletta tra le 4 e le 5 del mattino. Un carro attrezzi ha completamente distrutto la parete della banca Unicredit di via Regina Margherita, sradicando per intero il deposito del bancomat che si trovava al suo interno. Un piano studiato nei minimi dettagli, mandato all'aria dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine. La fuga del carro attrezzi, scortata da una lancia delta scura guidata da un altro gruppo di malviventi, è infatti terminata dopo neanche un centinaio di metri. Inseguiti dai carabinieri lungo via di Quonzo, i ladri hanno dovuto abbandonare i loro mezzi insieme alla refurtiva in via del Gelso, la strada che conduce al cimitero comunale. Diverse le auto in sosta colpite durante la precipitosa fuga. I rilievi effettuati questa mattina dai carabinieri e dalla polizia scientifica sui mezzi utilizzati per il colpo saranno utili a risalire all'identità dei malviventi, che dovrebbero aver agito in almeno 4-5 elementi. Via del Gelso è rimasta bloccata per alcune ore a causa delle lunghe operazioni di recupero del deposito bancomat abbandonato sulla strada. Sia il carroattrezzi che la lancia delta risultano rubati. Altri indizi utili alle forze dell'ordine potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel quartiere.